E' diventato virale il video di un giovane uomo autore di un gesto ignobile e rispettoso per Venezia e i suoi abitanti. E' salito sul cornicione di un palazzo, l'uomo guardava di sotto senza curarsi delle voci preoccupate di alcuni residenti. Con un gesto fulminio improvviso si è lanciato di sotto con un tuffo dentro al canale. Subito dopo è uscito dall'acqua e si è asciugato. Immediata la reazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ha spiegato sono in corso le indagini per identificare lui e il suo complice che lo stava filmando per postare poi il video sui social. Sicuramente per il protagonista di questo comportamento ci saranno conseguenze ma il sindaco di Venezia scrive anche che bisogna dare più poteri reali ai sindaci contro i vandali.